Un punteruolo, questo probabilmente lo strumento con cui sono state tranciate le quattro gomme dell'auto dell'avvocata Simona Giannangeli, nota come l'avvocata delle donne, tante battaglie in attivo e alle spalle. È stata ad esempio avvocata di parte civile per il Centro Antiviolenza nel processo per lo stupro di una studentessa avvenuto nel 2012 nel piazzale della discoteca Guernica di Pizzoli, per il quale è stato condannato l'ex militare Francesco Tuccia. Quello di ieri è l'ennesimo episodio di intimidazione nei confronti della professionista del Foro Aquilano, presidenta dell'Associazione Donatella Tellini e del Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila. Agli inizi di gennaio un altro episodio molto simile, sei anni fa invece il ritrovamento di un biglietto di minacce e insulti sul parabrezza dell'auto. Non mi lascio intimidire, vado avanti, la procura farà il suo lavoro, ha detto l'avvocata Giannangeli in riferimento alle indagini in corso. Ho inteso rendere pubblica appunto questa notizia perché ritengo che ogni atto di intimidazione, perché di questo si tratta nei confronti delle donne, è un atto che vada denunciato pubblicamente, a tutti i livelli, dato anche il mio impegno in un centro antiviolenza che comunque rappresento. Chi può esserci dietro questo gesto? Penso, e l'ho anche scritto, di poter affermare che si sia trattato di un uomo, lo so e basta, non starò a fare troppe ipotesi su questo. Sono consapevole di vivere un tempo storico in cui la violenza maschile è ancora determinante e incisiva e significativa nella vita delle donne, quindi non ho alcun dubbio in proposito. Lei è spaventata? No, io non sono spaventata, sono arrabbiata in parte, sono consapevole ancora più di prima che la lotta che conduco contro ogni forma di sopraffazione e violenza maschile è giusta. Ci sarà una inchiesta, un'indagine, immaginiamo. Lei che cosa si aspetta anche dagli inquirenti? Ma ritengo che un'indagine ci sarà. Quello che mi aspetto dagli inquirenti è quello che è lecito aspettarsi, che conducano un'indagine, che questa indagine sia approfondita e soprattutto che sia efficace, così da poter permettere di individuare il responsabile. Gli atti di intimidazione nei confronti delle donne avvengono ovunque, nelle città dove ci sono centri antiviolenza attivi, questi episodi sono abbastanza frequenti. Non è successo niente di eccezionale nei miei confronti in questa città. Quello che deve interrogarci è del perché continui a succedere e interrogarci cercando di capire quante e quanti abbiamo responsabilità nel fatto che tutto questo non si interrompa.